Sicuramente se un giornalista fa inchiesta non se la passa liscia. Pensiamo a Esther, la mia collega in Lombardia che prende 3 euro per i pezzi dell'Andrangheta. Pensiamo a Fabrizio Gatti che ha queste stupende inchieste con l'Espresso. Non è facile fare giornalismo in inchiesta in modo particolare dal punto di vista economico perché comunque un giornalista che prende 3-4 euro a pezzo non è tutelato dal punto di vista. E soprattutto, tralasciando l'aspetto economico, tralasciamo l'aspetto dei colleghi. La solidarietà si è vista come qualcuno che vuole cambiare il mondo. No, c'è il giornalismo d'inchiesta semplicemente la ricerca della verità. Scrivo quello che vedo, diceva Anna Polikoskaya. Penso che un lavoro di squadra sia ancora più importante oggi. Quello che comunque manca in questo paese è che siamo settantesimi nella libertà di stampa. C'è un motivo per cui l'istituzione, tra virgolette, i poteri forti, l'imprenditoria comunque non vuole trattare questi temi. E soprattutto i giornalisti non vengono tutelati.